Il Paradisi delle Signore Otto, spoiler 16-20 ottobre, Vittorio chiede a Ezio di tornare. In arrivo la nuova anteprima del Paradisi delle Signore Otto e la settimana dal 16 al 20 ottobre vedrà l'arrivo di tanti cambiamenti per i personaggi principali. Arriverà il momento in cui Ezio Colombo tornerà a Milano, perché Vittorio ha bisogno di lui al più presto. Dal canto suo, Matteo si lascerà convincere da Maria a continuare la sua attività di contabile. Ma verrà minacciato da un uomo misterioso. Tuttavia, Umberto consegnerà i documenti di Adelaide a Marcello. Anteprima di Le Paradide da Motto, Marcello è distrutto dalla partenza di Adelaide l'anteprima de. Il Paradisi delle Signore Otto per la settimana dal 16 al 20 ottobre indica che Umberto e Flora vivranno a Villa Guarnieri e tra i due non mancherà la tensione. Il fantasma di Adelaide sarà ancora presente nella coppia, e quando Umberto verrà a sapere della separazione tra la contessa e Marcello, si sentirà estremamente felice. Barbieri invece cercherà di essere forte e di non mollare ma non sarà facile. Tra Marcello e Umberto non mancheranno i discorsi, ma un gesto a sorpresa di Guarnieri potrebbe cambiare la situazione. Il commendatore deciderà infatti di affidare a Marcello primo documenti di Adelaide, ma il loro contenuto resterà top secret. Intanto diventerà sempre più difficile per Alfredo soddisfare le richieste di Irene, ma nonostante i consigli di Armando non avrà intenzione di parlarne con lei. Per conquistare il cuore della fidanzata, Alfredo penserà di acquistare uno scooter, ma scopre con riluttanza che Irene non ama le due ruote. Il ragazzo rischierà di far diventare i suoi occhi più grandi della sua pancia facendo qualcosa di folle per impressionare la sua ragazza. Anteprima settimana 16-20 ottobre, Matilde e Tancredi uniti le puntate del Paradisi delle Signore 8 dal 16 al 20 ottobre avranno al centro Vittorio, che lascerà la contabilità a Matteo. Le cose peggioreranno per conti perché Galleria Milano Moda riceverà un'importante offerta di collaborazione da parte del Consolato giapponese. Una buona notizia riunirà Matilde e Tancredi, che lavoreranno duro per creare uno slogan adatto alla situazione. A questo proposito Matilde chiederà aiuto a Vittorio e non lo nasconderà al marito. Per i grandi magazzini conti però ci saranno difficoltà con la fabbrica Colombo e per questo Vittorio chiederà a Ezio di tornare a Milano il prima possibile. Matteo parlerà di Maria e lei lo aiuterà l'anteprima di Il Paradisi delle Signore 8 rivela che nella settimana dal 16 al 20 ottobre Matteo inizierà a lavorare per Vittorio. Tuttavia, quando il nuovo contabile scopre che suo fratello possiede la metà delle azioni della Paradise, sarà molto turbato e penserà di lasciare il suo nuovo lavoro. Matteo parlerà con Maria e la giovane lo aiuterà a ragionare, impedendogli di andarsene. Portelli confiderà alla madre l'accaduto e le dirà anche che grazie a Maria ha deciso di mantenere il lavoro di commercialista. Infatti, qualcuno di misterioso lo seguirà e non sembra avere buone intenzioni. I guai per il ragazzo, però, non sarebbero finiti.